Screening a campione su base volontaria con una media di 50 test a settimana con tampone rapido per i lavoratori fincantieri di Ancona, dopo che nelle scorse settimane sono stati rilevati i casi di positività al Covid-19. L'azienda ha manifestato la sua disponibilità nel corso di una videoconferenza del tavolo provinciale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, convocata dal prefetto Antonio D'Accunto. I casi di positività al virus riguardano quasi tutti i lavoratori di ditta esterne. C'era stato anche uno sciopero indetto dai sindacati per richiamare l'attenzione sulla necessità urgente di fare controlli. All'incontro web con il prefetto di Ancona hanno partecipato anche i segretari provinciali dei sindacati di categoria di CGL, Cislo Will e UGL, il direttore del personale di fincantieri, rappresentanti dell'area Vasta 2, dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro e della Direzione Territoriale INAIL. L'ASUR acquisirà i risultati dei prelievi e prenderà in carico gli eventuali casi positivi per la sorveglianza epidemiologica e il tracciamento dei contatti.